Salmo 38, versetto 6 Sono curvo e abbattuto, triste, vado in giro tutto il giorno. Ci sono persone che non si liberano del peso che portano nel cuore. Persone che a volte vengono all'assemblea, testimoniano chiedendo preghiera, ma questo problema nei mesi rimane. E non stiamo parlando solo di una malattia che il Signore può permettere o guarire, ma stiamo parlando di pesi e situazioni che si radicano nel cuore, come una radice velenosa che vanno a nutrirsi della nostra gioia, della nostra pace e ci portano ad inaridirci, a rimanere curbi, a rimanere tristi, scoraggiati. E questo può andare avanti per diverso tempo, fino a quando non si può arrivare a vivere una depressione spirituale. Abbiamo conoscenza di questo Dio, andiamo nella comunità, preghiamo, leggiamo, ma non cambia mai niente. E sembra quasi che la nostra fede sia diventata sterile. Potrebbe essere un campanello d'allarme. Se questa situazione è quella che viviamo quest'oggi, c'è solo una soluzione, ed è rimanere e cercare la faccia del Signore alla croce, perché è lì che i pesi rotolano via. E forse ci può essere qualche situazione, qualche peccato, o semplicemente il Signore ha bisogno di svegliarci, perché la nostra vita si è intiepidita. Cerchiamo il Signore ed Egli interverrà, perché noi siamo chiamati a vivere pienamente nella gioia con Lui. Il Signore ci benedica.